Hai trovato Yamato Shop? Sì, è a Milano, in via Tadino, di fronte al numero 5. Sembra molto interessante. Entro? Affermativo. Ok, sono dentro. È davvero grande. È pieno di gadget, cartoni animati e fumetti giapponesi per tutti i gusti. Poster, cd, modelli in scala da collezione. Non hai visto niente di simile. Stupefacente. Yamato Shop è a Milano, in via Tadino, di fronte al numero 5. Aperto sempre, anche la domenica. Yamato Shop. Missione compiuta.